Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti di opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport, il canale del basket. Oggi cominciano gli europei femminili, naturalmente quindi non può mancare il primo video di commento al debutto della nazionale italiana che ha giocato oggi pomeriggio contro la Repubblica Ceca ed è stata sconfitta per 61-58. Per le ragazze di Dardo una sconfitta un po' amara, una partita brutta, complessivamente, credo si possa dire, giocata con molta imprecisione da entrambe le formazioni, pochissima protezione della palla perché la Repubblica Ceca ha perso 20 palloni, l'Italia 18, quindi molta poca cura da questo punto di vista, un incontro contraddistinto da un arbitraggio assolutamente incomprensibile dove si sono fischiati sospiri e sono stati lasciati correre blocchi, contrasti anche lontano dalla palla piuttosto netti. L'Italia ha giocato una gara nella quale ha più volte tentato la fuga, ma la Repubblica Ceca è sempre riuscita. A ritornare a contatto. In particolare è stato decisivo soprattutto il secondo tempo perché il primo tempo tutto sommato l'allungo italiano era di 5 punti, la Repubblica Ceca è tornata sotto, si è andata in intervallo lungo sul 33-32, momento migliore la doppia bomba di pan dagli angoli che aveva messo l'Italia in una buona situazione di vantaggio. Però poi in un primo tempo nel quale l'Italia aveva già tirato 13 volte da 3 e 20 volte da 2, la Repubblica Ceca stava a galla con il 50% da 2. Come detto è l'inizio di secondo tempo, il momento nel quale l'Italia tenta veramente la fuga. In 4 minuti costruisce un buon 13-0 di parziale, devo dire, sfruttando oltre a Zandarasini che è decisamente un po' il terminale offensivo e la giocatrice sulla quale ci sono un po' tutte le responsabilità, soprattutto offensive, un buon cambio è quello di Villa che entra nel tardo in chiusura di primo tempo ed ha già un cambio di ritmo. Lardo quindi la conferma in apertura di secondo tempo al posto di Verona. L'apertura di secondo tempo, lo dico sempre nei video, è un po' quel momento che tante volte cambia la gara. Ci sono proprio statistiche che parlano del fatto del quanto nell'apertura del secondo tempo ci sia il maggior numero di errori da parte di giocatori, allenatori e arbitri. Un po' dopo la pausa rientrare nel ritmo della partita, lo vediamo succedere molto spesso. Quindi l'Italia è bravissima a approfittarne, va a più 14, Villa, appunto, Zandarasini guidano un po' questo momento. Anche la bomba di Keyes dà proprio il più 14, però poi da lì l'Italia si ferma, si blocca molto e la Repubblica Ceca anche in questo caso torna, costruisce un contro-break, in Italia non segna di fatto più per sostanzialmente quasi sei minuti, senza più segnare un canestro, mentre invece la Repubblica Ceca torna sotto con un parziale di 11-0, un paio di bei canesti di Andrè sotto canestro ridanno all'Italia il più 7 con il quale entra nell'ultimo quarto. Ultimo quarto nel quale però l'Italia di fatto non segna più e ancora Zandarasini con qualche buona iniziativa di Villa che però probabilmente rovina un po' la sua buona partita da un punto di vista emotivo, prendendosi qualche responsabilità di troppo al tiro, chiuderà infatti con 4 punti, ma un 2 su 8 anche in appoggio al tabellone relativamente facili. Nel finale la Repubblica Ceca è più forte, Brezzino ha mette una tripla importante per andare in parità e poi è decisiva Anzova che nel finale un po' complicato recupera un pallone, è sicuramente la giocatrice più sveglia in campo. L'Italia peraltro ha da recriminare anche in una situazione nella quale su una situazione di pala contesa la freccia premia l'Italia che ha un'azione, gli rimangono 4 secondi sul tabellone, però nessuno lo dice, c'è un errore di comunicazione, Zandarasini praticamente lascia scadere il tempo senza riuscire a prendere neanche un tiro, peraltro poi su Zandarasini che deve prendersi tutte le responsabilità finali nel cercare di trovare il canestro che possa mandare la gara anche all'overtime. Una sconfitta credo un po' appunto figlia di qualche indecisione di troppo, figlia sicuramente delle scarse percentuali al tiro, l'Italia tira col 37% dal campo, 39 tiri da 2 con 46% e ben 25 tiri da 3 con il solo il 24%. La Repubblica Ceca chiude tirando con 48%, quindi molto meglio, a palità di canestro realizzati 24 per parte, tira 14 volte in meno delle giocatrici italiane, tira 8 su 16, 50% da 3, perde appunto molti palloni perché in generale è proprio stata una partita molto complicata e senza nessun padrone. Ora, situazione del girone, dall'altra parte Israele che è da una parte la nazione che ospita, ma dall'altra parte è una squadra obiettivamente di livello inferiore, in questo momento sta perdendo di una trentina di punti contro il Belgio. La formula prevede la prima che vince il girone va già ai quarti di finale, la seconda e la terza invece giocano una sorta di ottavo di finale per andare a qualificarsi, per andare poi ad accedere ai quarti di finale. Per cui l'Italia ora è in una situazione nella quale bisognerà vedere poi cosa succede anche tra Belgio e Repubblica Cecca, però dando magari il Belgio per squadra più forte del girone, a questo punto l'Italia si trova a dover battere Israele per quantomeno accedere agli ottavi di finale. Però mi sembra una nazionale che debba ancora sviluppare un po' fino in fondo quelle che sono le proprie caratteristiche, i propri punti di forza, detto appunto il Zanderasini, 10 punti, 5 su 15, 5 rimbalzi, 8 assist, grande facilitatrice, probabilmente un po' troppe responsabilità da un punto di vista offensivo. Mi è piaciuta molto Keyes, 28 minuti, 10 punti, più 11 peraltro con lei in campo, come Villa nonostante il convulso finale a più 8 di plus minus con lei in campo. 14 di valutazione per Keyes, male Verona, partita in quintetto, sostituita poi appunto in apertura di secondo tempo da Villa, anche quando poi è rientrata non ha fatto molto meglio, è chiusa anche con uno 0 su 4 da 3. Devono sicuramente migliorare le percentuali di Pan e Sprafico, che sono bombardiere pronte a sfruttare le giocate delle compagnie, 2 su 6 per Pan, 3 su 7 per Sprafico da 3, e invece devo dire che Andrè, 10 punti, 8 rimbalzi, ha giocato una buona partita e forse appoggiare qualche pallone in più sotto su di lei avrebbe potuto essere anche un'altra soluzione. Migliore in campo, prima stella della serata a Mzova, 14 punti, 6 su 7 e soprattutto le giocate decisive nel finale, seconda stella della serata a Brezzinova, 12 punti, 5 su 9, 7 rimbalzi, le triple e un paio di cose importanti nel finale, terza stella della serata a Keyes, per me la migliore delle azzurre, come detto le statistiche che vi ho citato poco fa. Fatemi sapere ragazzi, se avete visto questo debutto, come vi è sembrato, se c'è sensazione di avere perso un'opportunità, credo che l'Italia possa avere degli impianti, però sicuramente è anche una partita che darà molto, sul quale pensare, lavorare, per cercare di migliorare, cercare di trovare alternative, anche e soprattutto offensive, perché appunto tirando con percentuali così basse riesce difficile vincere la partita, anche se poi appunto in questo caso la sconfitta è arrivata proprio in volata. Iscrivetevi al canale, il canale del basket, appuntamento prossimo, seguiamo, continuerò a seguire gli europei, e nel frattempo anche per la Serie 2, stasera abbiamo il primo match point per Pistoia sul campo di Torino, che ha un sold out nella partita casalinga per cercare di allungare la Serie. Grazie a tutti, alla prossima e un bacio da Lox.